Buongiorno, sono Alessandro e ti do il benvenuto in Sancurino Immobiliare. Io sono il responsabile dell'ufficio di Correggio. Ti starei chiedendo quanto vale la mia casa, come posso venderla in breve tempo, come devo muovermi per compiere questa operazione. Queste sono le domande che sicuramente ti starei ponendo in questo momento. In questo periodo molte persone hanno paura di vendere il proprio immobile perché non sanno come comportarsi, non sanno a che cosa andranno incontro. Probabilmente molti di voi si staranno informando su internet per capire come velocizzare i tempi di vendita, che valore realmente ha il mio immobile, a quali rischi andrò incontro per compiere questa operazione. Ti faccio i miei complimenti perché queste sono le domande giuste per fare bene le cose. Informarsi è l'unica via che abbiamo per difenderci in un settore pieno di insidie, quale è quella immobiliare. Sul nostro sito troverete tutte le informazioni sul nostro metodo operativo, dalle spiegazioni tecniche alle strategie di vendita, agli strumenti che noi utilizziamo, dalla tecnica fotografica alla realtà aumentata. Ti aiuterò a capire come gestire la tua vendita in sicurezza passo dopo passo. Se vuoi una valutazione gratuita e senza impegno, non esitare a contattarci. Tutti i nostri riferimenti li troverai sul sito. Sanquerino Immobiliare, il tuo sogno, è il nostro obiettivo.